Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo lo spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.